Al castello di Windsor è andato in scena il secondo royal wedding dellanno. La 28enne principessa Eugenie, figlia del principe Andrea e di Sarah Ferguson, nipote della regina Elisabetta e nona in linea di successione al trono britannico, ha detto sì al borghese 32enne Jack Bruce Bank, manager di un'azienda di liquori, nel secondo matrimonio reale dell'anno dopo quello di maggio fra Harry e Meghan Markle. La cerimonia è stata celebrata di fronte a 850 ospiti d'onore nella stessa cappella dove a maggio si sono sposati il principe Harry e Meghan Markle. La vera notizia nell'annuncio delle nuzze tra la principessa Eugenie e Jack Bruce Bank è il ritorno a corte di Sarah Ferguson. Bandita, zittita, questa volta la duchessa è tornata a farsi vedere grazie al matrimonio della figlia. Osteggiata per anni, isolata dalla famiglia reale, contestata per scandali e scandaletti, ridicolizzata per il fisico Kirby e i modi poco royal. Oggi Sarah Ferguson, ex moglie del principe Andrea e madre di Eugenia, si è presa la sua riviscita. Pasciata in un abito verde speranza, si dice che chi veste di verde sia una donna sicura del proprio fascino, colore che è il simbolo di questo matrimonio, Sarah scende dall'auto con la secondogenita Beatrice e infrange subito il protocollo, come al solito. Sorridente, felice, si lancia verso i sudditi festanti per abbracciare una signora anziana e per accarezzarne un altro, e ribadisce che lei è una del popolo, non una della famiglia reale. Eugenia è la sorella minore della principessa Beatrice, aveva solo sei anni quando il padre, Andrea, e la madre detta Ferdi la rossa hanno divorziato a seguito di uno scandalo. La duchessa di York è stata paparazzata con il suo amante, mentre lui le bacia un dito del piede. Entrambi i genitori sono stati attenti nel cercare di tenere il più possibile Eugenia e Beatrice al riparo dalla curiosità dei tabloid, che negli anni della loro adolescenza si sono mostrati impietosi nel sottolineare la mancanza di grazia, eleganza e bellezza delle due sorelle, spesso paragonata alle sorellastre di Cenerentola, Anastasia e Genoveffa. Eppure, le ragazze hanno trovato una propria strada, e anche un lavoro. Eugenia, oggi 28 anni, occupa la nona posizione nella linea di successione al trono del Regno Unito, ma è poco impegnata negli affari reali. . Dal 2015 è direttore associato della Galleria d'Arte House Revirt a Londra. Conosce Jack Bruce Bank, 32 anni, nel 2010 durante una vacanza sulla neve in Svizzera, a Verwey, il ragazzo le viene presentato da amici comuni. . Jack non è laureato, ha scelto di iniziare a lavorare come cameriere, è diventato manager del club Laun Bar Maïkia Maïfer, Londra, e in seguito si è affermato come commerciante di vino e imprenditore nel settore food and beverage. . . Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like. .